vi spiego il gioco com'è semplicissimo mettetevi qua voi abbiamo una gara tutta abruzzese proprio a pescara contro aquila semplicissimo avete tre minuti di gara avete un bicchiere dovete riempire uno alla volta i bicchieri riempire prima il ghiaccio poi due parti di aperitivo ramazzotti il naturale riempite fino al bordo con il prosecco e poi date una spruzzata con la soda questa è la ricetta una ricetta semplicissima come ti chiami betty ciao betty dove vieni qua nella zona della zona cosa fai di bello nella vita allora adesso facciamo una bella marchetta mi dici come si chiama il ristorante dove ha sede e la tua specialità ti vede col cappellino è altro che vent'anni di matrimonio qua non manco il tempo di arrivare a casa ma guarda va bene ti ringrazio la canna abbiamo fatto il secondo strato adesso andiamo a prendere altre patate creeremo il terzo strato e alla fine faremo un altro piccolo strato di baccalà molto molto bello mille foglie di baccalà con chips di patate giusto e poi abbiamo pomodoro e misticanta come guarnizione giusto quindi quando andate al bar quando andate in un ristorante quando andate in una discoteca andate nel club dovete dire un red bull non una red bull una lattina è corretto di red bull un red bull è invece il nome corretto per chiamare il nostro energy drink ok abbiamo preparato quindi abbiamo fatto abbiamo scelgato il mio drink fatto con natural yogurt e crema di cacao bianco andremo aggiungere un top di menta verde bene vedremo che si fermerà un layer grazie a un drink